I pasticciotti presentano le parole capricciose Q e U erano felici e contenti ma un giorno arrivò K che iniziò a fare i capricci K si lamentava e piangeva perché voleva stare vicino alla lettera U e voleva cacciare via la lettera Q Tutti erano stanchi di quei piagnistei così si decise di accontentare la lettera K ma solo per alcune parole che vennero poi chiamate parole capricciose Le parole capricciose quindi si scrivono con K U invece di Q U anche se la U è seguita da vocale Per impararle ascolta questa filastrocca La tribù degli indiani Cucù Conosci la tribù degli indiani Cucù? C'è l'indiano cuore che raccoglie le more C'è cuoio, un indianone che fa lo stregone C'è scuola l'indiana che fila la lana C'è l'indiano cuoco che accende un bel fuoco Conosci la tribù degli indiani Cucù? Se li scrivi con la Q ride tutta la tribù Cuoco, cuore, cuoio e scuola Io ricordo ogni parola E sto attento a non sbagliare Qui la Q non ci può stare Oltre alle parole della tribù degli indiani Cucù Esistono anche altre parole capricciose Che imparerai un po' alla volta Te ne diciamo alcune Scuotere Riscuotere Percuotere Tacquino Evacuare Circuito Innocuo Proficuo Arquato Cospicuo Ciao E al prossimo video Se questo video ti è piaciuto Ti chiedo di fare mi piace Cliccando sull'icona qui sotto Per me è molto importante Quindi grazie in anticipo se lo farai Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video Ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso Iscriviti E sulla campanella di fianco E la campanella di fianco